Musica Perché è una bellissima corsa e quindi merita assolutamente la presenza della Federazione Ciclistica Italiana e la presenza comunque istituzionale a dimostrazione dell'alta qualità di questo tipo di ciclismo e del movimento di rettanti stico italiano. Musica Manca poco più di dieci chilometri alla chiusura di questo 51esimo Gran Premio San Giuseppe e dobbiamo dire che l'organizzazione, questo non lo diciamo per piageria, ma l'organizzazione è davvero perfetta e meravigliosa con una situazione davvero bella da poter seguire. Dieci chilometri al traguardo e ancora la Brunero davanti a tenere l'andatura. Dicevamo 51 anni di corsa collaudata con questo circuito fatto ad otto che permette di passare dentro Monte Cassiano due volte dando quindi la possibilità, due volte per giro, dando quindi la possibilità al pubblico di poterlo seguire nel migliore dei modi. Con il numero 39 per la Maltinti è Marco Zamparella che cerca l'allungo in questo momento. Proviamo a vedere come sarà il suo tentativo. Si volta per vedere dov'è il gruppo, eccolo laggiù in fondo, il gruppo che sembra un po' in attesa ad aspettare e lasciando quindi a Marco Zamparella l'onore di questa fuga. Inquadratura giusta per l'alfiere del presidente Renzo Maltinti che con la sua squadra è sempre protagonista. Ma intanto attenzione perché Zamparella viene recuperato e ripreso ancora una volta la Brunero che fa l'andatura. Ma attenzione sono scatti continui in questo momento con il numero 134. È la volta ora di andare a cercare la fuga di Edoardo Zardini del team Colpac. Cerca ora lui di tenere l'andatura e di andare in piedi sui pedali ad allontanarsi dal gruppo. Sono gli ultimi chilometri davvero nervosi, fatti di scatti continui. Chi si è risparmiato di più in questi 160 chilometri può raccontare qualcosa. Ma attenzione perché quell'allungo del numero 134 Edoardo Zardini trova la compagnia di un amico di viaggio. Andiamo subito a vedere di chi si tratta insieme con lui. Con il numero 78 Corrado Lampa della SCAP Foresi. I due vanno dentro il centro abitato di Monte Cassiano. Insieme vedete come stanno pedalando allungando nei confronti del gruppo. Quindi con il numero 78 Corrado Lampa della SCAP Foresi e con il numero 134 abbiamo detto Edoardo Zardini della Colpac che entrano in questo momento. Vedete il pubblico che saluta. Giù in fondo c'è lo striscione che racconta che siamo oramai alla conclusione di questo 51esimo Gran Premio San Giuseppe. Li lasciamo questi due concorrenti per andare a vedere dietro che cosa succede. Ce ne sono ancora altri due che cercano di raggiungere i due di testa per diventare quindi un quartetto. E adesso sì che le cose si fanno complicate. Con il numero 14 Leandro Cotesta della Palazzago in giallo-viola. Eccolo qua il numero 14 Leandro Cotesta e poi abbiamo visto con il numero 22 il quarto uomo Michele Foppoli della Gallina Inox Tonoli. Sono in quattro in questo momento che cercano quindi con la fuga di allontanarsi. Adesso il tratto è tutta discesa. Guardate dov'è il gruppo laggiù in fondo. Sono in due che vanno a cercare di recuperare i fuggitivi per allungare anche loro. Quindi si presuppone che possa essere una volata con sei fuggitivi. Il numero 57 Anatoly Castan della Cerone Valle Orco e con il numero 115 è Chris Worral della MG Kavis Nord Pacific. E lì vedete il gruppo è dietro. Cinque chilometri alla chiusura e intanto stiamo per dare questo ricongiungimento tra i quattro fuggitivi e i due inseguitori. Ricordiamo con il numero 115 è la volta di Chris Worral e del numero 57 Anatoly Castan. Sono lì tutti e sei insieme. E il gruppo, l'avete visto dalle immagini che vi abbiamo fatto vedere, è a circa 300 metri, 400 metri non di più il vantaggio. Ma certo che se collaborano questi sei possono andare direttamente al traguardo finale. Eh sì, sono lontani quelli del gruppo. Sono lontani anche se sembra che stanno spingendo. E siamo in località Vissani, pochi chilometri ci lasciano dal centro di Monte Cassiano per la chiusura di questo 51esimo Gran Premio San Giuseppe. E sembra oramai che il discorso sia tutto riservato a questi sei ultimi fuggitivi. Tratto in discesa e siamo lì. Oramai manca più di, poco meno di un chilometro. Non manca di più e il tratto è tutto in discesa. Sarà difficile per il gruppo poterlo andare a recuperare. Lo striscione dell'ultimo chilometro, il triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Sei corridori in fuga e noi li andiamo a aspettare tutti e sei al traguardo per vedere come saranno le cose. Guardate dov'è il gruppo. Eh sì, oramai sembra proprio cosa fatta per i sei fuggitivi. Sono loro che probabilmente si giocheranno la volata finale. Lasciamo il sei e andiamo al traguardo ma attenzione perché il gruppetto dei sei non è lo stesso che abbiamo visto prima. Addirittura davanti c'è Enrico Battaglini della Zalfa Desiree che va a vincere a braccia alzate. È successo di tutto negli ultimi 800 metri. Il gruppo ha recuperato i sei fuggitivi e adesso Enrico Battaglini della Zalfa Desairfior va a vincere con il numero uno per il secondo anno consecutivo. Questo cinquantunesimo Gran Premio San Giuseppe. Secondo posto per Massimo Delpidio della Monturano Civitanova. Terzo Alfio Locatelli del Palazzago. Quarto Michele Foppoli della Gallina. E poi abbiamo il quinto posto per Moreno Arrodondo della Scappaforesi. E quindi Ettore Carlini della Aran D'Angelo. Davvero incredibile quello che è successo. Ma è stata una corsa molto dura. Non ci pensavo perché la settimana ho avuto anch'io dei problemi dopo la balestra di salute. Quindi non ero proprio al 100% però è andata bene dai. A raccontarla davvero non ci si può credere. Avere quel vantaggio a 800 metri dal traguardo e farsi risucchiare così. Complimenti comunque alla Zalf che ha tirato davvero da morire. Enrico Battaglini vince per il secondo anno consecutivo il Gran Premio San Giuseppe. Questa è la cinquantunesima edizione. La seconda piazza di Massimo Delpidio della Monturano Civitanova. E adesso le interviste. Luciano Rui ormai siete abbonati al successo in questa gara che comunque è sempre una corsa dal grande fascino. Uno dei punti di riferimento di inizio stagione. Ma sai mai questa la chiamano la piccola Sanremo e direi la grande Sanremo dei direttanti. Vincere a due anni di seguito non è facile. È una soddisfazione importante.